Una colossale frode fiscale da 120 milioni di euro. È quella scoperta dagli agenti della Guardia di Finanza di Macerata e di Ancona smantellata una vera e propria organizzazione di truffatori grazie all'operazione denominata Drago Nero. Le fiamme gialle hanno sequestrato beni per quasi 22 milioni di euro e notificato sei ordinanze di custodia cautelare. Per i destinatari al momento sono stati disposti solo gli arresti domiciliari. Ben 25 gli indagati tra Marche, Lazio, Abruzzo, Puglia, Campania e Lombardia, sequestrati nove distributori di carburante ad Ancona, Macerata e Teramo che avrebbero messo in atto una commercializzazione illecita di oltre 133 milioni di litri di carburante. Sono sette le società utilizzate per la frode mentre quelle interessate dal raggiro tramite il ricorso a quote di partecipazione al capitale sociale sono 23 in tutto. Insieme a queste anche tre ditte individuali confiscati, 21 i mobili e 16 terreni in cinque province, poi autoveicoli, motocicli e addirittura una barca. La base dell'organizzazione a San Severino Marche a muovere i fili un settempedano di 50 anni. il blitz è scattato all'alba, oltre 60 i militari impegnati, l'inchiesta vera e propria era partita nell'estate del 2015. Il carburante veniva cartolarmente ceduto a tre società cartiere formalmente ubicate in Bulgaria e nella Repubblica Ceca per poi essere fatturato ad altre società cartiere ma italiane. Infine veniva venduto ai distributori stradali, raggiri che permettevano a chi faceva parte dell'organizzazione di fare la bella vita, una coppia di truffatori del gruppo senza dichiarare redditi, aveva affittato una casa nel pieno centro di Roma e pagava un affitto annuo di quasi 50.000 euro e poi prenotava vacanze, lo aveva fatto a Natale spendendo 90.000 euro e poi in estate spendendo altri 80.000 euro. Nella loro disponibilità anche super auto di lusso, fra cui Mercedes, Ferrari e Porsche.